Siamo qui con Rabolini, assistant coach di coach Ghizzinardi della Pafonio Menia. Allora, tanto per non addentrarci troppo in analisi pre-partita che sono sempre un po' scivolose. Allora andiamo subito sul sorriso. Avete con voi un nostro grande ex. Impressioni? Come l'avete trovato? Siete contenti? Beh, sicuramente sì. È un ottimo ragazzo, innanzitutto. Una persona solare, un ragazzo molto disponibile in palestra che ha voglia di allenarsi, di migliorare tecnicamente e che in questo momento qua, dove siamo un po' sfortunati a livello di infortuni, ci dà una grande mano. Ho visto, ho visto, intanto la domanda successiva, sembra che state uscendo un po' dal pantano degli ultimi tempi. Comunque, insomma, il vertice della classifica è sempre lì, state recuperando. Comunque oggi due squadre che hanno voglia di riscatto. Quello sicuramente. La voglia di riscatto è tantissima. Abbiamo di nuovo Arrigoni ed Alessandro, non a pieno regime, però disponibili. Quindi dobbiamo giocarcela assolutamente per avere un riscatto. Benissimo. Ringraziamo il coach Rabolini e ci vediamo dopo la partita.